Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video velocissimo oggi dovrebbe Yamaha finalmente presentare la R9 è una moto che io aspetto da sempre, da tempo in memora e quindi non vedo l'ora di vederlo, vi porto la reaction peraltro ieri ho provato l'MT09 con cambio YAMT quindi quella con il cambio diciamo sul manubrio semi-automa, anzi ma peraltro ieri ho provato l'MT09 2024 col cambio Y che sarebbe il cambio manuale automatizzato quindi ce l'ho fresca le sensazioni di questo motore, di questo CP3 e veramente non vedo l'ora di vedere questa moto nel frattempo prima che inizi tutta la presentazione vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale ve lo ripeto, tutti i video per voi è gratuito non vi costa niente ma è l'unico modo per supportarmi basta schiacciare quel tastino, iscriviti ok, ecco il video eccola, eccola subito, bam sparata così, fighe le alette fighe le alette nera un po' meno nera un po' meno senza gli specchi ok ma sono due moto diverse, la nera e la blu Kayab Brembo quindi confermati di spoiler non penso fare una versione SP o una versione M Austin Texas Kota belle le alette viste davanti motore divertente raga, questo l'ho provato ieri ok un po' ha preso un po' dall'M1 perché c'ha diciamo il musetto e poi c'ha le ali che scendono un po' stile M1 bella bella però bella però manca qualcosa scarico sotto tipo 0,9 vabbè chiaro ok sta parecchio non mi pare molto caricata come posizione no? così ad occhio si vabbè lo scarico sotto Brembo Kayaba di nuovo ok le confermiamo quest vabbè quickshifter track power 1 1 vabbè questa è la stessa elettronica della 0,9 sostanzialmente ok 12.000 giri street eh dai figa belle salette comunque ci sono belle sono pronunciate però mi convince e non mi convince ok vabbè ricarge reset revivro renight refocus reconnect leave everything behind lascia tutto alle spalle vedete sono due moto diverse raga sono due moto diverse una per se questa è quella proprio assetto pista e due vabbè figa senza il portatarga però un po' più un po' un po' snella un po' vuota tipo da una parte del cazzo non ha la vasca sotto non ha la vasca sotto madonna quanto è brutto quello scarico là sotto ragazzi oh mio dio quanto è brutto quello scarico mamma mia è bruttissimo veramente brutto pare una moto indiana guardandola meglio ma che è mamma mia da quest'angolo è pure carina mamma mia ma senza vasca sotto raga ho quello che ho quel co quell'ammasso di air world quindi non abbiamo dati non ci dice un cazzo non c'è la cavalleria nulla ok andiamo pure sul sito Yamaha vediamo se magari Yamaha.com penso che sia su questo sito our models motorcycle our motorcycle super sport R9 eccola qua R9 Italy Italian il lancio del nuovo modello R è stato sempre un momento decisivo per Yamaha la R9 non fa eccezione storia è sempre la stessa DNA da competizione Yamaha vabbè le 20 competizioni 20 design della MotoGP infatti ho detto io le lette che scendono un po' verso il basso perfetto queste sono le foto ce ne frega proprio veramente nulla l'abbiamo vista la R9 tutto con la data tecnologia tirata dalla competizione la combina con acclamata piattaforma motore a tre cilindri rivoluzionale di marca Yamaha va bene lo sappiamo che è un modello super sport molte caratteristiche di design ispirata dalla MotoGP la R9 rappresenta la progressione che ci si aspetta la nuova generazione mentre la spensione a livello R1 e l'impianto Brembo sul ruoto anteriore offrono precisione maneggiavolezza e agilità elevate per le quali la gamma Yamaha super sport rinomata vero questo è vero ok motore 4 tempi cp3 3 cilindri raffreddata a liquido ok 4 alberi recinto vabbè l'esaggio corso di rapporti compressione precedenza coppia ampia potenza ottimizzare per le prestazioni super sport quindi penso ci stanno dicendo che c'è un po' più da lungo rispetto alla 09 mi auguro credo spero telaio sviluppato appositamente per R9 a telaio delta box in alluminio presso fuso a gravità uguale a quello a 09 praticamente se non sbaglio rigidità messa a punto in prestazioni sportive si accarichi bassi che elevati 9,7 il telaio il più leggero ma utilizzato il modello super sport peso complessivo 195 kg apriamo se deve volare via quello scarico bruttissimo levi 10 kg scocca aerodinamica con ale aerodinamiche R9 una delle moto Yamaha più efficiente dal punto di vista aerodinamico questi lo sanno che se la devono giocare con l'RC 990 l'hanno vista? se non l'hanno vista Brembo dischi da 320 perfetto pompa radiale new generation kayaba full perché è in inglese vabbè completamente regolabili ci mancherebbe altro Yamaha RC YRC Yamaha Ride Control Sport Street e Rain io ho letto pure track però nel video vabbè custom ok piattaforma inerziale a 6 assi sicuramente si display TFT 5 pollici connettività completa va bene equipaggiamento specifico per la pista inclusi manubri clip on e QSS quindi quick shifter di terza generazione cerchi ultra light Bridgestone Hyper Sport RS 11 vabbè ah ecco eccoli qui dati tecnici 119 cavalli tale e quale identico alla 09 9,5 kg di coppia tale e quale identico alla 09 ok va bene allora abbiamo dato una prima occhiata a questa R9 mi convince e non mi convince allo stesso tempo sembra un prodottino interessante andrebbe visto un attimo a che prezzo esce che è la cosa principale e soprattutto le competitor perché questa in teoria è una moto che dovrebbe andare a giocarsela con V2 RC 990R è la secondo me tosta insomma una serie di moto che comunque vanno una cifra esteticamente secondo me è un po' troppo simile alla R7 belle le alette ma questo fatto che non ha la vasca e c'è tutto sto coso sotto che sarebbe lo scarico veramente inguardabile però ovviamente conoscendo il motore fa venire decisamente l'acquolina in bocca e quindi per questo brevissimo video reaction della R9 direi che è tutto se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like e di andare a vedere ovviamente tutti gli altri video ultima cosa vi iscrivete al canale io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video